Senta, in apertura, diciamo, del suo film, i titoli di testa, sono delle animazioni di Giannini e Luzzati. È stata una sua precisa scelta quella di usare l'animazione? Sì, sì, sì. Fu proprio una scelta di usare l'animazione prima e poi di affidarla a Giannini. E quindi che fecero una cosa che credo sia rimasta anche quella un po' nella storia dell'animazione, eccetera, perché è una cosa veramente bella, divertente, piena di classe, di qualità, poi rapida. E quindi talmente che quando io lo vedi un pochino poi mi ispirai anche io per il secondo che feci, perché mi dette qualche suggerimento anche a me, quei titoli di testa lì. E poi ci fu la musica di Coe, un altro apporto importantissimo, non sembra, ma è la musica di Rustichelli, con quell'inno, pranca, 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 leon, 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 è un inno che veramente è rimasto da 30 anni e tutti lo sanno, se lo ricordo, qualche volta lo citano sghignazzando, ridendo, anche allo stadio, durante le partite, eccetera. Ma lei se lo sarebbe immaginato un successo così grande? Esattamente no, no, né io, né i miei compagni di lavoro, anche, ma nemmeno Mario Cerchigori, anzi Mario Cerchigori era rassegnato a rimetterci dei soldi. Quindi io no questo, pensavo che sarebbe andato, sarebbe andato abbastanza, se la sarebbe acabata, ecco questo posso dire. Ma che avesse avuto un boom così straordinario, no, e poi che dura ancora, che ancora si dà in televisione, si continua a darlo tutti gli anni, voglio dire, due o tre volte all'anno. Senti, invece per il secondo è stata un'idea sua di fare, diciamo, seguito? No, l'idea di fare un seguito non fu mia, anzi fu di Mario, di Mario Cerchigori, che avendo avuto il grande successo del primo, appunto, mi disse subito dopo, mi disse facciamo subito il seguito, che era anche semplice, perché il primo finiva, coloro che si avviavano spinti da Salerno, che era questo santone che andava in Terra Santa, facciamo loro in Terra Santa, anche lì coraggioso, perché dovevamo andare in Africa, fare tutte queste cose, però io resistetti molto, perché a me non mi piace fare i seguiti dei film, non mi piace perché i seguiti, anche se sono fatti meglio, sono meglio pensati, appunto perché noi che scriviamo insieme agli sceneggiatori, eccetera, ma tutti hanno avuto un'esperienza e quindi in genere il secondo è fatto meglio del primo, però siccome non è il primo, non è l'esito del secondo, infatti quando uno domanda, domando io, ti è piaciuto? Sì, molto bene, mi sono divertito, ha avuto infatti un grande successo, però non è il primo, è per forza perché è il secondo, chi arriva secondo non arriva mai il primo. Ma anche lei quindi preferisce l'armata Brancaleone? Sì, anch'io, anch'io, ma perché è lì, è la prima volta, l'originalità, la prima volta che si vedeva un film di quel genere, l'impatto con il medioevo, con quel linguaggio, la seconda volta uno andava preparato, in fondo, a vedere quello lì, invece la prima volta non si era preparato. Senta, lei mi diceva prima che questo film lo ha portato anche nelle scuole. Sì, perché ci fu una specie di rivolta, appunto, nell'ambito degli insegnanti, eccetera, che dicevano, ma no, non è vero, il medioevo, certo che noi avevamo esagerato perché volevamo fare un film comico, spesso quasi una farsa, quindi se fai un film farsa, comico, devi anche sottolineare delle cose in maniera un pochino esagerata. Però la realtà poi in fondo era quella, noi volevamo distruggere una idea, una sbagliata idea che si aveva e che si insegnava ai ragazzini nelle scuole medie, naturalmente, ma ai ragazzini, l'immagine del medioevo che il ragazzino poi si portava tutta la vita, perché chi non faceva l'università, chi non si addentrava poi nello studio vero e proprio di quell'epoca, sarebbe rimasto comunque con quell'immagine che gli davamo noi e che era quella che volevamo dare, e quella era giusta, ecco. Senta, lei prima, parlandomi dell'armata Brancaleone, ha citato Malerba e Ferreri. Nel Brancaleone alle Crociate c'è un chiaro riferimento a Bergman, al settimo sigillo, quando Gasman... Per la morte in campo, no, ma quello non c'entra. Ogni volta che c'è la morte in campo, in qualsiasi film, non si sa perché se è Bergman. La morte è stata fatta prima ancora che Bergman facesse il suo film, mille volte, nel cinema muto, ci sono dei film straordinari in cui la morte appare. Poi comunque la morte appare sotto varie forme, chi la vede come Bergman, come questo essere alto, magro e così, chi la vede invece con delle ali da pipistrello, in un modo suo. Poi la morte che fa vedere Bergman è veramente un essere soprannaturale, che poi è eratico, eccetera. Noi sempre, sempre noi volevamo costruire una cosa che facesse anche divertire. Tra l'altro la morte la faceva proietti, proietti per esempio nei due film, fa un sacco di personaggi, era uno di quelli che non viene mai citato, perché lui poi, nascosto sotto le cose della morte, nell'altro film sotto uno che si autopuniva, eccetera, passando sulle cose ardenti, eccetera, ha fatto un sacco di cose ed io ho lavorato con lui, quindi con Villaggio, insomma io con Salerno, poi c'era anche Volontè, insomma la SPAC, la Sandrelli, il Folcolulli, la Sandrelli che faceva una tutta nascosta, faceva una lebrosa, insomma tutto un... non stravolgere gli attori, i personaggi. Mi racconta il rapporto suo come regista e come sceneggiatore rispetto agli attori, che cosa chiede a un attore? Ma chiedo la cosa più difficile e anche più facile, di fare quello che è scritto. Ci siamo messi in tre o quattro per alcuni mesi a scrivere, per bene, un personaggio, a cercare di dargli una sua carattere, una sua identità, sia morfologica che come si parla, un suo stato d'animo, un suo carattere, e quindi che lo rispecchi, che lo... leggendo intanto che si renda conto di che cos'è il personaggio, se ha dei dubbi che li esprima, se ha delle cose da migliorarlo che le esprima, ci mettiamo d'accordo, eccetera. Ma la cosa però è molto semplice, ma per questo è molto difficile. Quindi, allora, l'attore di grande qualità si fa presto, perché lui legge il copione, si legge il carattere, si rende conto di cos'è il personaggio, lo capisce, perché è intelligente, perché è un grande attore, e sa anche come realizzarlo. Perché poi ci sono degli attori che sono anche intelligenti, che capiscono, però non hanno la capacità di realizzare, non hanno il dominio del corpo, della voce, dell'espressione, eccetera. Giocando con questi attori che avevo, la cosa era semplificata. E quindi, ecco, e quindi i miei rapporti con gli attori di qualunque altro film, non solo di questi, sono sempre stati molto facili, molto scorrevoli, senza mai nessun contrasto, mai, mai, mai di nessun genere, poi chiunque fossero gli attori. Branca, 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 leon, leon, leon. Violi e vento sono marchando, marchando, la armata, branca, leon. Leon, leon, leon. Leon, leon. Branca, branca, leon.